Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, Israele, l'Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù. Il Dio che ha preso per sé un cuore umano infonda umanità nel cuore degli uomini. A tutti voi auguro buona domenica e una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione. Non confondiamo la festa con il consumismo. Si può e come cristiano si deve festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e buon Natale a tutti. Arrivederci.